L'appuntamento con il Paradisi delle Signore è confermato dal 6 al 10 marzo 2023 con le nuove puntate in prima visione assoluta. Le anticipazioni della soap opera pomeridiana di Ryan o rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Gemma, alle prese con la gravidanza che scuoterà la sua vita e finirà per destare anche un bel po' di sospetti. Spazio anche alle vicende di Gloria e Veronica, le due donne si ritroveranno ai ferri corti e ci sarà un nuovo acceso scontro. Roberto dubita su Gemma. Intanto, Ezio verrà a sapere che Carlos sta per convolare a nozze con un'altra donna, l'uomo metterà subito al corrente Gemma, informandola anche della sua volontà di mettersi in viaggio al più presto per cercare di parlare con l'uomo. Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle nuove puntate del Paradisi delle Signore fino al 10 marzo 2023, rivelano che ci sarà spazio anche per i dubbi di Roberto Landi. Sì, perché il miglior amico di Gemma inizierà ad avere dei seri sospetti sul conto di questa gravidanza che è stata annunciata dalla figlia di Veronica. A quanto pare c'è qualcosa che non torna in tutta questa vicenda, motivo per il quale Roberto inizierà ad avere dei dubbi in merito. Gloria potrebbe rinunciare al suo sogno d'amore con Ezio. Adelaide, messa alle strette da Ludovica, non potrà che confessare alla vicepresidentessa del circolo che sta intrattenendo una liaison con Barbieri. Elvira dopo aver conseguito la patente festeggerà assieme alle Veneri e a Salvatore al bar Bottini. Matilde, intanto, non riuscirà a rivelare a Vittorio cosa in serbo Tancredi, Flavio Parenti. Roberto inizierà a sospettare che Gemma possa essere incinta, nel frattempo Ezio e Veronica opereranno una scelta dolorosa ma necessario per far sì che la giovane Zannatta non diventi una ragazza madre. Gloria, di conseguenza, sembrerà doversi rassegnare a veder volare via il suo sogno d'amore con Teresio. Adelaide confessa l'attresca con Marcello. E poi ancora, le trame delle prossime puntate della sua popera pomeridiana di Rai 1, rivelano che si parlerà anche delle vicende di Marcello e Adelaide. Il feeling tra i due diventerà sempre più evidente, Umberto e Ludovica sono ormai consapevoli del fatto che, i loro due ex fidanzati, si frequentano nella vita privata, al di là della sfera lavorativa. E, alla fine, sarà proprio la contessa a togliere ogni dubbio su quello che sta accadendo, la contessa, parlando con Ludovica, confesserà la sua relazione in corso col giovane Barbieri.